Ben trovati, vi parlo dal distanziamento sociale. Sono Vincenzo Lombardo, docente di tecnologie digitali per il suono e l'immagine all'Università di Torino. Insegno i principi e la tecnica alla base della produzione multimediale, dove suoni e immagini si compongono in software interattivi. Vi propongo un gioco che ha anche un ruolo nella produzione multimediale, lo vedremo alla fine. Parliamo di musica pop. Vi imbattete in una canzone che vi piace. Le candidate migliori sono quelle melodie accattivanti che suonano già di un'altra epoca. Insomma, il sospetto vi viene. Può essere una cover o un'interpretazione di un brano uscito in precedenza e si parte alla ricerca di altre interpretazioni. Obiettivi possibili? Scoprire come altri hanno interpretato il brano, risalire all'originale, comprendere come è cambiato il ruolo del brano nella società. Questo gioco si pratica sulle piattaforme dei grandi archivi digitali come YouTube. Si risolve in qualche ora e ci rimane una playlist che possiamo riascoltare quando vogliamo. Prima che parte la ricerca il brano ha già una storia con noi. Tipicamente non è la prima volta che lo ascoltiamo. Il gioco la sistematizza, questa storia costruisce per noi una narrazione. Ora io ve ne racconto una, potrebbe essere l'inizio di tante narrazioni partecipate. Questa canzone l'ho conosciuta nel 1982. Si intitola I can't take my eyes off of you. Era cantata dai Boys Town Gang scoperti in qualche show televisivo della Rai. Era un successo della disco music dell'epoca e ora è diventato un classico. Negli anni 90 la canzone risuona ancora, anche perché la reinterpreta Gordia Gaynor. All'epoca io non l'avevo capito. La versione di Gloria Gaynor era molto simile nell'arrangiamento a quella dei Boys Town Gang. Negli anni 2000 mi imbatto proprio su YouTube in un interprete nuovo, Andy Williams. Nel 2002 registra canta I can't take my eyes off you in duetto con Denise Van Outen, un'attrice e cantante britannica. Nel duetto Andy Williams è un signore di mezza età, mentre la Van Outen è una giovane molto bella e seducente. Mi chiedo perché quella messa in scena. In realtà per lui è una riedizione. Lui l'ha già cantata nel 68 questa canzone. Era uscito un suo singolo di Can't take my eyes off of you. Diventa la mia interpretazione preferita. Ma nel 2014 scopro l'originale. Al cinema esce Jersey Boys, diretto da Clint Eastwood, che era la storia del gruppo musicale Four Seasons, quello di Frankie Valli, che io già conoscevo ai tempi di Grease. Ed è Frankie Valli il primo esecutore di questa canzone. L'avevano scritta per lui Bob Cree e Bob Gaudio. Il secondo era parte anche di Four Seasons. A questo punto Wikipedia completa l'opera e mi fa scoprire tantissime versioni, neanche tutte in realtà. E scopro che Can't take my eyes off of you fa parte anche di molte colonne sonore nei film. Ve ne cito tre. Il Cacciatore, dove è nella scena del biliardo. In ipotesi di complotto, quello con Julia Roberts e Mel Gibson, in cui viene cantata nel film in un po' di occasioni e poi viene una nuova versione nei titoli di coda. E infine le dieci cose che odio di te. Quella in cui Heath Ledger la canta durante il film. Infine perché questo gioco può tornare utile nella produzione multimediale. Molto spesso per inserire un brano in una produzione risparmiando sul costo dei diritti è molto utile avere una conoscenza delle interpretazioni esistenti. Se ne possono scoprire alcune interessanti che sono distribuite a costi inferiori di altre e quindi fanno risparmiare alzando il livello della produzione. Quindi happy game e raccontateci le vostre storie.